salve a tutti signori bentornati sul mio canale oggi siamo qui tornati su rainbow six age siamo con un ospite speciale cioè il babbo gamer saluta quella raga bella perfetto siamo qui stasera noi due solo per fare delle ranked quindi detto questo non c'è niente ne andiamo subito era anche ospite speciale ospite speciale mamma mia mi fa sentire troppo importante ma basta consolato solo questa mi esce si è sconsolato si è sconsolato consola un cazzo stammar contro abbiamo descocolo le non pesce abbiamo contro per le condizioni di scuolo scoco che parmigiano perché come istambul e safiri come lo vedi il nostro compagno abbiamo in squadra non abbiamo godly squad abbiamo goldi la versione tarocca di godly è tarocca si è tarocca il nostro godly quasi è andato te l'ho detto che è tarocca ho portato due persone che cazzo ha scritto che cazzo sono ma caratteri che cazzo scrive speak human please push e badniflust ormai che hanno bestiemi pure quando vorrei chiamarmi e mi banna nei miei video ma guarda quante robe ho distrutto faccio una cazza injure injure no non me l'ha ammazzato e dove è su spot amiche l'aveva ingiurato quindi ok ok se non è non l'aveva rianimato gg quindi era uno posto e mosse chi dire tre porti che cazzo vuoi riportare ma sono fuori di test ma che si muoiono bimbi minchia oh bimbi minchia faccio io scritto ma stai scherzando ma cosi ti porti vendita orcaid ma va vendita orcaid ma va quanto c'ha di q questo arrivo sta calmo dio santo dai muoviti però mamma mia in piano no era jager jager no questo minchia l'hai sparato al piedino è morto minchia si è svegliato goduli tarocco si ah si si è svegliato ma no secondo me è il fratello secondo me è il fratello no dove è tachanka no tachanka ma da questo ci fa il culo c'è quell'altro prima come on come on come on ma ma vaffanculo aspetta un attimo morcoddi vabbè ma glielo pure detto tachanka morto morto ma pure tachanka tu che basta devo andare a portare? quanto? cross mi piace troppo blitz oh ti giuro dove è ecco sarai sicuramente in giro per la mappa a farsi i cazzo di su farsi i cazzo di su eccolo ah no era jager mamma mia madonna che volo che ha fatto stai a fa zero morti tu eh eeeh vorrei continuare voglio una kill ooo sei staffato tutto lungo arrivo eh vedi il calmo eh calmo ma da scale già le arrivano o c'è madonna dove sono? morto ammazzo di pistola eh dov'è? è in server a posto va bene eeeh è inciampato in un drone che cazzo ha fatto vai 8-1 minca che cazzo ha fatto di zone di partita esatto bella 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 ti reportano tutti in galera yeeeh siiii tutti in galera cazzo oh c'è sempre quello istambul sefiri e spacex guarda sempre quelli di prima ma che mi hai chiuso fuori io chiudo perchè sento freddo qua eh mi hai chiuso fuori si si beh è ovvio ti chiudo fuori anche di qua se non ti dai una mossa ahahah dai chiudi la porta lì per favore va là il problema è che andiamo a chiusa l'altra è persa a trono no siiii giacal vai ma la c***a va porca p***a aaaaaa coglio oh madonna quanto ho pushato ma devo muovermi a farmi a far la botola devo mettere gli ads ah è in ritardo ahahah 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 bagno ricky ricky ma perchè mi aspetti di ricky si co no 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 i ban a 4 di bit pixel c'è il drone ho fatto il drone ho fatto il drone ho scelto il drone ti devo dire io porca p***a si va beh eh che bravo spacex bravo 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 e dentro ah ma spari che c***a aspetti no 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 oh bravissimo esiste si esiste si se vengo sta calcificata domenica vado a messa ve lo dico eh ve lo dico vado a messa domenica che mattina se vengo sta calcificata domenica vado a messa ve lo dico eh guys I wanna give you a plate si don't kill cioè ci ha lasciato seriamente le piastre cos'è che ha fatto? ci ha lasciato le piastre Rook qui c'è uno ma come cazzo mi ha ucciso come cazzo mi ha ucciso sto bastard io comincio a pregare ragazzi non ti muovere non far casino cazzo non ti muovere non ti muovere stai buonino lì che tanto ti fai fake si lancia sto cazzo ma guarda perchè sei andato avanti è persa vaffanculo vaffanculo why mountain why legge posto a meno male a meno male ha ucciso il più scarso ricchi di stocca cosa che nel vito metterò a 0 25 di velocità questa partita è persa ma che raffreddamento hai? corsair h100x a liquido? mi sta sui 70, 4 che marca? color master però è quello da 360 è un voto grosso quanti gradi? 74 te lo dico subito e rotation? se aspetta la faccio io dove? io sto andando a 28% di utilizzo del processore sto a 64 gradi e il mio radiatore è di 240 di solito quando gioca a rainbow sta sui 50 ma mostro registrando quindi sempre sicuro va bene va bene va bene certo 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 barili 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 certo certo in 40 in 42 stanno la dentro ma non te lo piccate non te lo piccate non te lo piccate non te lo piccate il diffuser sta da bandit e si da da beh ma è da lì è esploso è esploso gtx 1660 ti hai ma neanche su serata dai se si se mi prendo una da 2070 ti hai qua faccio 300 fps a 350 che poi scalda un botto e sto pc è minchia pensa se mi fossi preso un i9 quindi la proprio stufa a legno alibi dove sono morto io si si l'ho ammazzato l'ho ammazzato che posto e occhio da corridoio se gli arriva ci tocca andare a messa domenica andiamo a messa live in chiesa gg viva gesù cristo c'è cristo esiste se vinca sta classificata domenica vado a messa ve lo dico eh va bene signora dopo queste due assurdo perché minchia l'ultima l'abbiamo recuperata proprio come dei grandi proprio vabbè quanto eravamo 0 a 2 prima o 0 a 3 però 0 a 2 0 a 2 poi c'era quella che faceva tutto amarro con ibana si si è vero 1 a 3 per colpa di montagno che minchia ti lancia la c4 se ne vai in avanti poi c'era quell'ibana che si chiamava rickly qualcosa del genere che ti sparava e faceva su e giù del sinistra sembrava rambo incazzato ma che cazzo ne so vi invito a lasciare un like condividere questo video iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e niente vi mando un saluto e ci becchiamo ai prossimi episodi ciao a tutti signor ciao bella